Associazioni sempre più impegnate nel sostegno della sanità pubblica, sempre più spesso a coadiuvare una richiesta crescente di cure e servizi, ci sono organizzazioni no profit che scendono in campo per dare il proprio contributo al miglioramento dell'esperienza terapica. A Pescara l'Agbe danni garantisce assistenza ai piccoli pazienti affetti dalle eucemie e ai loro nuclei familiari. Questa mattina a visitare la struttura che ospita da sette anni le famiglie richiedenti, ci sono due rappresentanti delle istituzioni abruzzesi, Antonio Castricone, parlamentare del Partito Democratico e l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. È un'offerta che sta a guardare anche la protezione del nucleo familiare, dei parenti, dei genitori, degli altri figli e che comunque permette, tra l'altro qui a qualche metro a poca distanza dall'ospedale, di avere un supporto indispensabile quando purtroppo le famiglie si trovano in queste condizioni. Il mondo del volontariato, dell'associazionismo, anche quello del sociale, collegandolo a quello che è un percorso di assistenza è addirittura fondamentale. Nel futuro renderà peraltro più di qualità il sistema e allo stesso tempo più sostenibile. E peraltro la qualità degli investimenti che la sanità, anche regionale, sta portando sul percorso oncologico credo sia significativo e che debba essere ancora di più rilevante nel proseguo dei prossimi mesi. Un impegno costante da parte dell'associazione dei genitori dei bambini affetti da emopatie che prosegue la sua marcia annunciando nuovi spazi dedicati all'accoglienza delle famiglie che si trovano ad affrontare questo delicato percorso, un numero che cresce di anno in anno. Noi abbiamo da poco acquistato un'altra struttura, tra l'altro adecente a Casa 30 Ore e contiamo nel corso del prossimo anno, nel 2016, di ristrutturare e cercare di portare a termine almeno altri due appartamenti.